Signori, buonasera a tutti. Io sono Alvaro Riva, faccio parte dello staff del progetto Inclusive Impact. Il responsabile di questo progetto è Giorgio Abeni, che è direttore organizzazione e, ripeto, responsabile di questo progetto. Abbiamo preparato un'organizzazione che riteniamo in grado di gestire tutte le affiliate che in questo momento abbiamo fatto. Abbiamo deciso di limitarne il numero proprio perché vogliamo lavorare bene e ci siamo fermati a 25 sul territorio nazionale più 2 che sono all'estero. La vision di questo progetto è fornire un primo livello in campo, portare determinati valori sportivi e cercare di far arrivare i Roma City a livelli più alti nei quali ora siamo, proprio per avere un miglioramento, una performance sempre più importante. E questo fa parte dei risultati che vogliamo avere. Cioè una mission che porti ad avere risultati sempre migliori, lavorando dal basso, lavorando bene, lavorando bene con le affiliate che devono sentire loro, la nostra vicinanza, ma anche noi, la loro. Perché ci deve creare un legame importante, un legame forte. Ecco perché ho chiesto le iscrizioni a YouTube. Perché su YouTube annuncio i ragazzi, i genitori, tutti possono vedere le partite, possono vedere tutte le informazioni settimanali che ci sono, possono vedere immagini che vengono inserite dal settore di comunicazione del Roma City. Per cui aggiornarsi continuamente e vedere le partite streaming, che a volte sono anche, insomma, è caruccio vederle, in modo che si senta la vicinanza delle affiliate a noi, per creare poi in giro degli affeccionati, cioè che siano legati alla società, che poi andranno a visitare, a vedere, dalla quale poi ci vorremmo di dare delle soddisfazioni sempre migliori. E il lavoro è importante. Gli obiettivi sono recuperare un po' i valori del calcio. Pensate che all'inizio di ogni partita lo stadio venne suonato l'inno nazionale, cosa della quale un po' tutti siamo dimenticati. L'inclusione, il rispetto, il lavoro di squadra e soprattutto non dimentichiamo mai quello che i ragazzi in campo e tutti noi dobbiamo avere in questo sport, il divertimento. Perché se non facciamo le cose senza divertimento, secondo me, insomma, non sono nemmeno tanto belle da fare. Per quanto riguarda il centro, potete in qualsiasi momento andare su Roma City e verificare cos'è questo centro. È un centro chiaramente creato per ambizioni superiori alle attuali. Ci sono foresteria per 140 posti, ci sono piscine, c'è un albergo in apertura a breve, c'è uno stadio con 2500 posti, ci sono i campi di allenamento, ci sono tantissime cose. C'è addirittura un percorso nel verde perché è vicino al Tevere, in zona trafiano romano, tra Capena e Riano, sulla Tiberina proprio. Dall'autostrada lo si vede e lo si vede anche arrivando da Riano, andando verso Fiano e viceversa. Per cui c'è un ingresso e si arriva e c'è il centro al quale si accede sempre avvertendo prima che si sta venendo sia per visitarlo che per qualsiasi altro motivo. Ripeto, come ho detto prima, le nostre affiliate sono su tutto il territorio nazionale. Le loro strutture sono state valutate e inserite, sia perché erano conosciute prima, come voi, sia perché siamo andati a vedere sulle varie richieste come erano le strutture. Abbiamo deciso di inserirle, per cui in questo momento sono, ripeto, 25. Il progetto si fonda come sempre, Alessio qui a fianco a me lo sa, su tre cose che riteniamo fondamentali. La formazione, perché qui non è che ci cerca di dare una metodologia, ma non è che qui, mister, c'è qualcuno che deve imparare o qualcuno che deve andare dall'altro a spiegare. Non è questo il motivo. Ognuno di noi, se vuol fare bene il proprio lavoro, tutti abbiamo fatto il mister, quindi abbiamo davanti due, abbiamo un direttore sportivo, un direttore generale. Deve assumere notizie, deve migliorarsi, deve vedere un po' cosa fanno gli altri in giro. Giusto, mister, perché non solo, ma perché uno, mister, lei può portare a noi delle informazioni che non abbiamo, noi possiamo portare a lei delle informazioni che non hai, insieme cresciamo tutti e due. Giusto? Poi verranno, in queste formazioni, che avremo dei convegni, dei corsi, dei workshop, delle comunicazioni Zoom, insomma, mi confronterete. Con altri, altri mister, alcuni avremo, ripeto, come ho detto prima, nel corso della formazione da noi, ci saranno degli ospiti dall'estero. Primo sarà quello del mister, penso degli allievi nazionali del Valencia, o comunque dalla cantera del Valencia, che ci darà la sua visione, la sua metodologia, che un po' di qui, un po' di là, tutto va bene, perché magari non sappiamo cose che loro sanno e viceversa, anche noi poi gli diciamo qualcosa. Lo scouting, ecco, lo scouting non è una parola vuota in questo caso, perché lo scouting serve alla società per trovare ragazzi che possano fare, intraprendere un percorso che comincia comunque dai semi professionisti o comincia o dagli unioni nazionali o quando il settore giovanile crescerà come sta crescendo, anche nel settore giovanile stesso, che potrà essere o regionale o nazionale, in funzione di quello che saranno i risultati della prima squadra. Faremo gli scouting qui, poi verranno quelli che verranno chiamati là, chiaramente, ci sarà una valutazione anche, e verrà inserita in un database che poi comunicheremo, dove c'erano tutti i dati di quelli visti, con i progressi che magari faranno, ognuno dei responsabili ci comunierà, cos'è meno che verranno arricchite le informazioni. Un'altra cosa importante, perché più aggregati si è, meglio si è, questo sia per noi, sia per gli iscritti e tesserati, in questo caso della Leocom, perché se i tesserati e i genitori non iscritti, i tesserati, i genitori, eccetera, vedono una certa vicinanza, hanno modo di visitarla in un certo modo, vedono la vostra crescita, vedono la vostra voglia di portare novità, di fare delle cose che normalmente nell'intensità non sempre si fanno e non sono utopistiche, non devo andare fino a 500 km da qui, non devo andare, ma cose reali che uno viene e le vede tangibilmente sul campo. Qui faremo anche un evento a marzo di tutti insieme a Roma City, cioè tutte le affigliate, stiamo studiando come farlo, se in una volta o in due, queste poi sono cose che vedremo, faremo dei tornei, come ho detto prima, dei camp tecnici, sia da voi che ne faremo uno poi da noi. Per quanto riguarda la formazione tecnica, se vogliamo chiamarla così, come ho spiegato prima, si fa da noi e da voi, e qui adesso, prima di andare via, studieremo il primo giorno di formazione, io lo chiamerei formazione, sia informazione, cioè come ho detto prima, è uno scambio di idee, di esperienza, che può portare sempre un bagaglio superiore a chi ascolta e anche a chi dà queste informazioni. Ripeto qua e poi dal 16 dicembre partirà da noi. Tra l'aggiante informazione, ho detto prima al vostro dettore sportivo che verrà inviata la comunicazione, ci saranno dei bandi, delle domande di riammissione a questo corso, i primi 40 vengono da noi direttamente e gli altri seguiranno sulla piattaforma Zoom tutto il corso direttamente. Come guest star, guest usate, di questa prima giornata avremo un terchio da Valencia e poi successivamente a gennaio, febbraio e marzo, sono quattro giornate, avremo in ognuna di queste giornate un ospite particolare che ci porterà l'esperienza di tanti anni sui campi, sia di società estere che eventualmente di società italiane. Una cosa importante, ripeto, io non voglio dimenticarmi niente, è questa. Gli approfondimenti, come ho detto prima, verranno fatti, oltre che qui e da voi, anche con successive intromissioni di informazioni sul web, che man mano verranno comunicate, webinar, e poi ogni volta che voi avrete bisogno o vorrete creare una giornata di formazione o per un argomento o per una qualsiasi cosa di informazione o di, come dire, di metodologia vogliate approfondire, siamo a disposizione e si mandano, ma si manda il tecnico, i formatori più che altro, ne abbiamo notti ottimi, che un paio tu li già conosci, che verranno e insieme a voi faranno questa giornata ulteriore di approfondimenti o quello che vi serve. Io ho già parlato di tornei, di Roma City Day, che vi ho accennato prima, per cui lo organizzeremo a breve, in funzione della giornata della prima squadra in casa, il tutto insieme a Roma City lo faremo a marzo, e i tornei mano a mano saranno aperti alle categorie di scuola calcio e del settore agonistico. Per i camp successivamente ci saranno le varie comunicazioni, ci saranno nel periodo estivo e verranno organizzati sia presso di voi che presso la nostra sede a Roma City. Tutte queste cose poi man mano vengono comunicate, ci organizziamo direttamente con i vari interlocutori della società affiliate che avranno poi il compito di fare quello che è necessario per le varie partecipazioni o decisioni. E' un progetto importante, come diceva prima il Presidente, si interagisce direttamente con noi e ci auguriamo chiaramente che tutto questo possa percrescere in modo esponenziale sia le società affiliate che naturalmente noi, a varivissimo tempo per avere dei professionisti. Progetto molto importante, collaborazione con Roma City, insomma che prospettive avete per quanto riguarda questa iniziativa? Sicuramente è un progetto abbastanza importante e innovativo per il territorio nostro, poiché riguarda una società che è molto in crescita, la struttura che stanno mettendo su lo dimostra e quindi io tenderei più a definire già di parlare di un progetto con una società professionistica sotto tutti gli aspetti. Gli manca quello che è la certificazione della categoria per parlare di professionismo, ma credo che a breve, visti i presupposti, credo che sarà a breve raggiunta. Detto questo, è una collaborazione, un'affiliazione molto importante perché come tutte le affiliazioni ti dà modo di crescere, da modo di crescere sia a livello societario che è tutto quello che devi rappresentare per i ragazzi che si iscrivono. Perché noi non ci scordiamo sempre che siamo una scuola calcio e che in teoria facciamo delle iscrizioni affinché ai ragazzi che vengono da noi gli vengono insegnati non solo quelli che sono i valori tecnici puri del calcio, ma bensì una serie di componenti che si dovrebbero ritrovare all'interno della struttura, certo dall'entrata in campo, dal rispetto delle regole negli spogliatori, dall'educazione verso gli allenatori, verso la società, verso gli arbitri, verso gli avversari. Quindi è un pacchetto a 360 gradi che viene aumentato di valore perché quando poi, come diceva prima il direttore, ti confronti con società nuove, quando ti confronti con strutture diverse, hai più punti di vista da mettere sul tavolo. Quindi sono cose che potranno sicuramente farci crescere. Noi cerchiamo di prendere questa occasione al volo e cerchiamo di trarne il massimo miglioramento per la nostra struttura e per la nostra realtà. Senza togliere il fatto che anche per i ragazzi che saranno iscritti alla Leocon ci sarà un accesso migliore sicuramente per poter arrivare a mettersi in mostra con una società come Roma City e per quanto riguarda anche un futuro eventualmente in questo sport che è meraviglioso. Vittorio Lorenzini presenta anche quest'oggi ormai presenza fissa qui a Campoluca di Ianne per questo progetto di affiliazione della Leocon alla Roma City che potrà far beneficiare i vostri ragazzi anche con la speranza di poter un giorno speriamo entrare nel mondo del provisionismo. Come hanno già anticipato i responsabili della Roma City, il Presidente, per noi un rapporto di affiliazione e collaborazione con una società per così forte crescita sul territorio è importante, soprattutto per i nostri tecnici perché confrontarsi a questo livello per noi è un motivo di migliorare le nostre conoscenze sia sotto l'aspetto per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità tecniche, tattiche, condizionali dei nostri ragazzi della comistica e delle attività ludiche per quanto riguarda l'attività di base. Quindi ben venga questo tipo di confronti, di rapporti con queste società e speriamo che sia soltanto l'inizio in un percorso lungo e duraturo che ci porti poi a migliorare questi aspetti di cui ho parlato prima in un tempo, magari in un futuro prossimo che non sia troppo lontano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.